ciao a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale breaktech sistema un attimo la videocamera e ragazzi vi devo parlare perché è arrivato un pacco è arrivato un pacco e che pacco ragazzi che pacco io ve lo sto dicendo continuate a seguire breaktech perché vi porto delle anteprime mostruose questa è un'anteprima pazzesca in italia solo su breaktech ovviamente un ringraziamento enorme al mio guru antonio perché senza di lui il top assoluto in italia e mi ha mandato questo mi fa guarda che ti mando un prodotto molto molto particolare noi adesso andiamo a vedere che tipo di prodotto andiamo ad aprirlo togliamo la carta a dimenticavo se volete vederlo iscrivetevi al canale lasciate un bel like perché è gratuito guardate che contenuti vi porto quindi mi merito che vi iscriviate anche perché è gratuito dai ragazzi dai che ci sono delle novità importantissime ma andiamo ad aprire il pacco aspettate che ve lo metto un attimo qui aspettate un attimo lo metto qui vi faccio vedere bene la scritta ok guardate bene c'è scritto anteprima impressionante ed eccolo qui adesso andiamo a togliere dalla sua scatola se ci riesco si lasciamo eccolo qui mamma mia ragazzi che roba allora questo lo mettiamo da parte mettiamo tutta da parte sono ragazzi sono eccitato ve lo dico sono veramente eccitato da appassionato di tecnologia avere un prodotto del genere è impressionante lo andiamo adesso un attimo ad aprire perché è incredibile siete pronti siete pronti ragazzi questo è il nuovo foldable di xiaomi questo quello xiaomi mix fold 3 uscito ieri e noi ce l'abbiamo già qui in anteprima assoluta mamma mia per voi guardatelo adesso andiamo a vedere vediamo cosa c'è dentro la scatola così facciamo anche un unboxing poi vi do le mie prime impressioni abbiamo il caricatore da 67 watt molto buono con il cavo dati ok e poi qua sotto vediamo se c'è anche una coverina si c'è anche la cover guardate che bello quindi brava show me che mette anche la coverina che questa andiamo utilizzare andiamo a luce ad aprire così vediamo come la cosa è fatta eccolo qua cover riprende un po è in plastica dura però il frame sembra pelle è carino con una cosa geniale a me piace un casino perché io ho già avuto il fold 1 abbiamo lo stand così da tenerlo in questa maniera molto bene poi c'è la parte invece frontale ma andiamo a vedere però il pezzo il pezzo forte ragazzi andiamo a vedere il pezzo forte perché che roba che roba vediamo un po sapete che io ho avuto il fold di video ho fatto la recensione la trovate qua sul canale ho toccato tutto non facciamo tremare la videocamera perché momento catartico ragazzi che roba togliamo anche questo andiamo a togliere ok mettiamo qui adesso e guardate che roba vedete la trama in fibra di carbonio lo pieghiamo ma quanto è sottile anzi è sottilissimo ma che cos'è è sottilissimo è incredibile è incredibile è bellissimo prime impressioni bella la rifinitura qua della cerniera con questa linea dorata ma quanto è sottile grazie sottilissimo è più sottile di uno sbarfo normale e poi d'aperto mamma mia un foglio di carta vediamo subito se ok le cerniere sono migliorate rispetto al mix fold 2 perché adesso si può tenere anche in questa maniera e direi di andare ad accendere lo accendiamo così facciamo il primo avvio andiamo su un po di carica perfetto abbiamo la pellicola già per applicata buono che abbiamo la pellicola lì poi andiamo a chiudere questo vediamo come sta con anche la cover ok buono e non va a aumentare la come si dice lo spessore in questa cosa ci sono anche da mettere questa qui poi andrò a utilizzare vediamo un attimo solo per farvi vedere come viene perfetto dai anche con la cover rimane super quanto è sottile incredibile vediamo adesso il display ok ovviamente devo andarci a installare tutto quanto faccio davvero il primo avvio lui non ha la lingua italiana ma la lingua inglese e non vedo l'ora di giocarci ragazzi che roba schermo già esterno mi piace mi piace vediamo un attimo se qua riusciamo a vedere nelle lingue eccolo qua lingua non abbiamo infatti abbiamo soltanto la lingua inglese quindi dovrò mettere molle locale sopra ma vediamo anche come gli spliste interno che roba che bellezza migliorato molto e rispetto al 2 devo dire che ha un altro impatto ok facendo così abbiamo questa parte qua dei widget migliorato molto lo schermo e il primo impatto è molto luminoso mi sa di una luminosità maggiore abbiamo qua la fotocamera frontale fotocamere che dovrebbero essere comunque di una qualità diversa rispetto al mini x2 abbiamo anche lo zoom fino a 5 per tra l'altro dovrebbe essere ottico se non erro perché sì come vedete abbiamo il periscopio vedete il periscopio qua sopra sono quattro sensori quindi lo andrò a testare anche sotto quell'aspetto però che roba che mostro che mostriciattolo ragazzi niente qua abbiamo già il primo bug ok bellissimo il primo bug ovviamente dovrò andarlo a vedere come si deve ah belli anche i widget per quanto riguarda le camere guardate abbiamo il widget della 90 mm 50 35 mm e possiamo già attivare così la sezione della foto in bianco e nero quindi andare a scattare subito con dei filtri facciamo subito una foto zoomiamo e devo dire che la qualità non è niente niente male comunque vi porto la recensione completa ovviamente di questo mostro seguitemi su instagram perché lì vi butterò tutte le varie foto e vi aggiornerò come va e come non va e soprattutto su telegram un ringraziamento enorme ad antonio veramente top dove lo trovate un canale che vi porta delle anteprime del genere ragazzi ma guardate che bestia quindi xiaomi mix fold 3 in prova su break tech ragazzi in prova su questo canale noi ci vediamo al prossimo video ciao da fabio e vado a giocare grazie